Buonasera a tutti, siamo Augustus alla Fiera d'Oltremare con il direttore generale HEM High Quality Meat, Salvatore Russo. Prodotto HEM di alta qualità, hamburger gourmet. Allora, HEM è un progetto nuovo, sostanzialmente noi abbiamo cercato di creare un mercato che non esisteva fino ad oggi, l'hamburger è notoriamente un prodotto ritenuto di recupero perché non esiste mai una certificazione sull'hamburger, notoriamente viene venduto come hamburger di bovino ma non si sa mai con che taglio di carne viene fatto. Noi anziché produrre bistecche o prodotti tipici di chi si occupa del mercato delle carni, acquistiamo dei tagli nobili e con quei tagli nobili creiamo direttamente l'hamburger, cosa che invece chi produce invece è altro, cioè la bistecca o il filetto, utilizza la rimanenza della produzione per poi creare l'hamburger. Questo ovviamente crea al consumatore finale un'alternanza di qualità e non una standardizzazione del prodotto. Noi produciamo solo hamburger, abbiamo fatto una scelta coraggiosa anche un po' contro questi tempi e pensiamo che dare una qualità costante e soprattutto poi di certificarla sia il futuro. Quali sono i tipi di carne che trattate? Allora siamo sicuramente conosciuti come i primi ad aver certificato l'hamburger di Chianina IGP, questo vuol dire che non diciamo noi che è l'hamburger di Chianina ma c'è un ente esterno che è il Consorzio di Chianina che viene a certificare l'hamburger all'interno dei nostri stabilimenti di produzione e ci pone il bollo del Consorzio sul cartone, quindi il consumatore finale potrà essere certo che sta mangiando un prodotto fatto 100% di Chianina, quello che spesso non si dice negli hamburger che vengono notoriamente pubblicizzati in giro è che magari non sono fatti completamente da Chianina. E per quanto riguarda le carni estere invece? Allora come carni italiane oltre alla Chianina lavoriamo anche la fassona piemontese e anche qualche altro tipo di carne, mentre come carni estere sicuramente c'è da parlare del black angus americano che ci facciamo certificare dall'USDA americana che è l'ente americano che ci certifica il prodotto e poi lavoriamo un black angus australiano che è una carne di un sapore veramente eccezionale perché è la carne che viene utilizzata dai giapponesi per produrre il Kobe. È un animale che viene alimentato per 356 giorni a mais e questo crea una tramezzatura di grasso che lo rende particolarmente succulento. In che modo comunicate questa cultura del gourmet al consumatore finale se non al fornitore? Allora noi ci rivolgiamo sicuramente alla ristorazione, quindi quello è il nostro mercato principale almeno per adesso. Cerchiamo di comunicarlo con un po' di marketing perché ovviamente la catena che utilizziamo per arrivare al consumatore potrebbe far perdere le tracce della nostra qualità, quindi creiamo dei totem da tavolo che il ristoratore può porre sul suo tavolo e può comunicare direttamente al consumatore finale che tipo di carne viene utilizzata, c'è presente anche qui il marchio del consorzio e con pochi simboli cerchiamo di riepilogare al consumatore finale che utilizziamo delle carni certificate e che non hanno presenza di ormoni. Inoltre abbiamo fatto una scelta di confezionamento che è un po' contro tendenza perché utilizziamo il congelato, quindi il prodotto è a meno 18 gradi e questo è un valore di qualità nel nostro caso perché l'hamburger che è un prodotto fatto con carne macinata ha una tendenza ad ossidarsi molto velocemente, quindi ha un TMC, una shelf life del prodotto molto ristretta. Il gelo ci consente di non mettere né coloranti né conservanti all'interno del prodotto. Quali sono i progetti del futuro? I progetti del futuro sono quelli sempre di più di comunicare al consumatore finale la nostra qualità, abbiamo dal punto di vista di marketing inventato anche il menù degli hamburger, per fare una battuta io dico se un cliente si siede al tavolo di un ristorante e può scegliere tra 12 tipi di birre diverse, ci vuole dire che ci saranno 12 tipi di hamburger diversi anche per lui e quindi abbiamo pensato di comunicarlo con un menù specializzato. È un'azienda che va sempre avanti alla ricerca di prodotti nuovi, anche un po' di moda se vogliamo, ma sempre legati alla certificazione di cui stavamo parlando. Quindi i nuovi prodotti che presentiamo in questa fiera sono l'hamburger di pata negra, quindi ci facciamo certificare dagli spagnoli questo maiale nero che mangia rificamente ghiande, che dà questo sapore particolare all'hamburger e all'hamburger di bufalo che noi già produciamo 100% italiano, stiamo adesso progettando e creando un hamburger di bufalo con mozzarella di bufala dopo, quindi stiamo coinvolgendo anche il consorzio della mozzarella di bufalo. E per quanto riguarda i costi invece? Per i costi, contrariamente a quello che si possa pensare, il nostro hamburger non costa molto di più di un hamburger tradizionale, diciamo che nella peggiore dell'ipotesi un hamburger da 200 grammi, che è un pasto a tutti gli effetti, che è una bistecca, costa sotto i 3 euro al ristoratore, quindi può creare con un minimo di contorni di verdure, di patate come lui preferisce, anche un piatto gourmet presentato in un certo modo e avere un costo altamente sotto i 4 euro, quindi che può essere rivenduto tranquillamente al consumatore finale con le ricariche giuste. Noi i TV del gusto la ringraziamo e le auguriamo una buona fiera, grazie mille. Grazie a voi, grazie.